Cantano e dipingono, oltre ad offrire la loro quotidiana opera al servizio della comunità rianese, sono le suore provenienti dalle Filippine e d'Indonesia, da anni parte integrante del tessuto parrocchiale della città, musica, fede e integrazione, un evento fortemente voluto dal Vescovo Sergio Melillo. Noi siamo contenti perché è la prima volta che Sua Eccellenza ci ha invitato a poter esprimere un po', a far conoscere un po' le suore e a esprimersi in qualche cosa che può essere adatta a noi. Per noi è una cosa bella perché è proprio unica che il nostro Vescovo ha unito queste due congregazioni che proprio sono fondate qui ad Ariano Irpino. Grazie a tutti.